Ecco voi, Bamba la star, e per noi è considerata, è considerata, è considerata molto amata, ma questo film è venuto continuare, lei è stata, vorrei che mi ha dato una mano e soprattutto fatto in modo di essere quel fonte che spesso oggi si mela verso la diversità oppure verso chi non ne conosce, non ci conosce. Bambola, con la sua lingua, con il suo modo, ha contribuito anche al concorso ed è per questo che mi apprecie di aver avuto il vostro. Grazie, Bambola. Allora, vorrei che ti metto un applauso, perché non so più amato di essere alcolone, che a volte può essere forte, a volte può essere meno acceso. Grazie. Prego, vai verso lì. Grazie. 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 Grazie a tutti.